Si incontrano in una notte diciamo buia e tempestosa qua. Diamo il nome del vostro istituto all'inizio. Storia e cultura fatta vivere agli studenti del Regina Margherita. Oggi a presenziare l'incontro sui beni culturali salernitani erano gli alunni del liceo Regina Margherita di Salerno. La mattinata è iniziata con una piccola presentazione di tutti i reperti di archeologia e degli ultimi reperti della scuola medica salernitana. Poi concluso con una visita all'interno dell'archivio di Stato dove sono raccolte le più grandi documentazioni inerenti ai medici del tempo. Le vestigie dell'antica scuola medica salernitana, le antiche testimonianze dell'archivio di Stato fanno ora parte del bagaglio culturale dei ragazzi del liceo Regina Margherita. Grazie anche a Michele Faiella, dirigente della sovrintendenza di Salerno.